Come si crea una carta 3D? Quali saranno i vari processi da seguire? E sarà difficile svolgere i passaggi che vi porteranno dal piano delle idee al prodotto finale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente ho visto molto spesso video su Instagram o qui su YouTube dove artisti hanno realizzato delle carte 3D con temi differenti, Pokémon, Dragon Ball, One Piece e molto altro ancora. Affascinato dai risultati finali mi sono detto, perché non provarci personalmente creandone una tutta mia. E così ho iniziato a cercare una carta di Pokémon che mi soddisfacesse trovando infine quella che a tutti gli effetti si è rivelata la scelta più giusta. Aspetta Arconte, perché proprio Pokémon? Perché le immagini riportate sulle carte del colosso nipponico presentano in determinati mostriciattoli linee rette e quindi più facilmente lavorabili. Questo ovviamente riguarda me e la mia manualità che è pari a quella di un bradipo, ma se per voi farà lo stesso potrete optare per elementi provenienti da altri TCG. Prendete questo contenuto come un punto di partenza ovviamente, spetterà a voi una volta presi tutti i passaggi, sbizzarrirvi come meglio crederete e migliorare anche la vostra tecnica di lavorazione. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i vari step da affrontare per creare una carta 3D. Andiamo a dargli un'occhiata. Tutto ciò di cui avrete bisogno per la lavorazione sarà un tappetino da taglio, un righello preferibilmente di metallo, un bisturi, o all'evenienza andrà bene anche un taglierino di precisione, un deck box di dimensioni ridotte e del nastro biadesivo con spessore pari ad un millimetro e mezzo. Per questo esperimento la carta che ho scelto è stato un hunter proveniente dal set Regno Glaciale. Come già anticipato ho deciso di selezionare proprio la seconda evoluzione che porta al magnifico Gengar per la sua semplicità di taglio. E così dopo aver selezionato la cavia ho ordinato la bellezza di ben 10 copie dal sito CarTrader, troverete il mio referral link in descrizione, con altrettante unità di rarità reverse. Vi spiegherò fra poco a cosa serviranno. E così prima di iniziare la lavorazione ho svolto uno studio di profondità essenziale per procedimenti come questo e per farlo ho dovuto affrontare diversi passaggi. 7 per l'esattezza. Sono partito dalla base reale della carta il quale sfondo raffigurato dalla boscaglia alle spalle del Pokémon ha rappresentato lo strato di base di questa composizione 3D. A seguire è toccato alla mano destra che rispetto al corpo principale si trova leggermente più indietro. Poi è stato il turno proprio di quest'ultimo che ha rappresentato l'appoggio sul quale la mano sinistra ha trovato supporto. Ma prima di prendere in considerazione la sinistra ho voluto usare di più, andando a creare profondità anche nella bocca, tagliando con molta calma e precisione l'intera cavità orale. Quindi ho intagliato anche solamente la mano sinistra andando a chiudere il quarto e penultimo strato. Ma come quarto arconte? Fino ad ora i vari codici colore sono stati 5. Vedi? Rosso, verde, celeste, giallo e blu. Sì, avete ragione, ma nei passaggi dove vi illustrerò come assemblare il tutto, capirete per quale motivo la mano destra non sarà considerata parte degli strati finali, ma un corpo completamente a sé stante. Tornando alla struttura dello studio della profondità, l'ultimo elemento che ho incluso nel progetto è stato per l'appunto la carta senza l'immagine. Ed è qui che sono tornate utili le versioni reverse, dato che volevo conferire al prodotto finale un tono di esclusività in più. E così, dopo aver iniziato ad incidere, servendomi del bisturi e del righello per essere il più preciso possibile nelle linee rette, riscontrando invece alcune delle volte delle problematiche legate all'accuratezza del taglio in determinati punti del corpo di Hunter, sono riuscito a ricavare, dopo ore di lavorazione, tutte le parti necessarie per procedere allo step successivo. L'assemblaggio. Quindi, nastro biadesivo alla mano, ho iniziato a tagliare lo scotch bivalente in piccole striscioline, andandole poi ad incollare nei punti dove la struttura della carta non ne avrebbe risentito infatto di stabilità, pertanto necessariamente lungo i bordi, destro-sinistro, superiore ed inferiore su tutti i livelli ed anche nel box di testo. In più, un'ulteriore striscia è stata attaccata lì dove gli strati superiori avrebbero fatto la loro comparsa. Ad esempio, sul corpo del Pokémon dalla base al primo strato, sempre sul corpo principale, evitando questa volta la parte della bocca dal primo al secondo, stessa cosa dal secondo al terzo e solo sotto la mano sinistra dal terzo al quarto strato. Infine, per applicare l'ultimo livello, il quinto sul quarto, ho ripetuto il procedimento svolto per la base. Scusa Arconte, e la mano destra? Essendo stata tagliata singolarmente, non comunicando con nessuna parte della struttura principale della carta, ha seguito un livello tutto per sé. Infatti, ancora prima di aver assemblato il livello base al primo, la mano sinistra è stata precedentemente applicata per facilitarmi il procedimento, senza scomodarmi in operazioni che al lavoro concluso avrebbero creato non pochi problemi. Vi parlo per esperienza personale. Una volta incollati tutti i nastri, mi sono avvalzo del deck box, in questo caso nello specifico un boulder 40 plus della Ultimate Guard, per essere il più preciso possibile nel sovrapporre senza sbagliare un livello sull'altro. Ho scelto questo accessorio perché ha la struttura ideale per evitare spostamenti accidentali che, in fase di assemblaggio, potrebbero vanificare tutto il lavoro che avete fatto. E quindi, con molta pazienza, ho iniziato a sovrapporre un livello sull'altro, andando infine ad ottenere il risultato finale che tanto a lungo ho desiderato. Beh, per essere uno dei primi lavori non è andata poi così male, ma mi sono reso ben presto conto che mancasse ancora qualcosa per concludere l'intero processo, ovvero una protezione adeguata. E dopo una ricerca neanche tanto lunga, ho trovato un case che contenesse alla perfezione una carta di questa tipologia. Si tratta dello Ultimate Guard Magnetic Car Case da 360 punti, che non solo vi permetterà di salvaguardare dagli agenti esterni la vostra creazione, ma grazie ai sostegni, gli slider stands, sempre della medesima casa madre, avrete la possibilità di mostrare la vostra carta 3D elegantemente dove vorrete. Come sempre vi lascerò i link in descrizione. Precisione e pazienza saranno dei requisiti fondamentali per la creazione di un progetto del genere, e l'aver acquistato diverse copie della stessa carta, 20 per la precisione, 10 per tipologia, mi ha permesso di lavorare in modo sereno senza preoccuparmi eccessivamente di avere poche chance di sbagliare. Anche perché, parliamoci chiaro, può capitare e vi capiterà. Quindi valutate bene di quanta pazienza sarete muniti e regolatevi di conseguenza. E voi quale carta trasformerete da figura piana a 3D? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.